Allora, sicuramente Via del Santo, che è una delle strade più frequentate dal turista che arriva a Padova, è una tra le più trascurate, sia per quanto riguarda il decoro, sia per quanto riguarda l'organizzazione. Purtroppo la strada è in condizioni terribili, non è più stata sistemata da tanto tempo, le cose di tamponamento che sono state fatte durano quello che durano, e quando chiediamo qualche intervento, purtroppo sono sempre rimasti inascoltati. Un'altra cosa che ci terrei sottolineare è il fatto che in questa zona non viene mai presa nessuna iniziativa. Tutte le iniziative che vengono fatte dal Comune riguardano Via Umberto, le piazze, Via Roma, e la nostra zona non è mai presa in considerazione. Questo vale anche per il Natale, per le luminarie che ci siamo autogestiti, tirando fuori tutte le attività e i soldi, e quindi vorremmo più attenzione da parte dell'amministrazione anche in questa zona, che è sicuramente una zona importante per la città. Vi parlava anche di piste ciclabili? Allora, la pista ciclabile che esiste è una pista che non serve a niente, perché è troppo stretta, è pericolosa, e tantissima gente non la usa proprio per questo motivo, per cui si va a contromano nella sede stradale. Sarebbe da rivedere o addirittura da eliminare, secondo me. Ecco, quindi cosa chiedete chiaramente al Comune? Al Comune un'attenzione particolare a questa zona, sia da un punto di vista di accoglienza del turista, del decoro, e di rivedere il traffico, che è tutti i giorni una quantità di auto che entrano, nonostante i varchi, e di capire perché tutte queste macchine passano di qua quando potrebbe essere una zona molto più appetibile.